Benvenuti nel mondo degli orologi Maurice Lacroix. Maurice Lacroix è un marchio di orologi svizzero fondato nel 1889 a Zurigo, in Svizzera. L'azienda produce orologi di alta qualità con un design elegante e sofisticato, utilizzando solo i migliori materiali e movimenti svizzeri di precisione. Grazie alla sua attenzione ai dettagli e alla qualità, Maurice Lacroix è diventato un marchio di riferimento per gli appassionati di orologeria. Una delle caratteristiche distintive di Maurice Lacroix è la sua capacità di creare orologi con design unici e raffinati, con particolare attenzione alla precisione e alla funzionalità. Ogni orologio Maurice Lacroix è un'opera d'arte, con dettagli curati e rifiniture impeccabili. Gli orologi Maurice Lacroix sono apprezzati dai collezionisti per la loro eleganza, la loro precisione e la loro innovazione costante. Tra le collezioni più note di Maurice Lacroix ci sono la collezione Masterpiece, caratterizzata da orologi con design innovativo e movimenti svizzeri di alta qualità, e la collezione Pontos, composta da orologi sportivi e dinamici. La collezione Masterpiece rappresenta l'eccellenza dell'orologeria svizzera, con orologi dotati di movimenti di alta precisione e di funzioni innovative come il calendario perpetuo. La collezione Pontos, invece, è perfetta per gli amanti dello sport, con orologi resistenti e pratici, dotati di funzioni come il cronografo e il datario. In conclusione, Maurice Lacroix rappresenta l'eccellenza dell'orologeria svizzera, con orologi di alta qualità e design elegante e raffinato. Le collezioni Masterpiece e Pontos offrono una vasta scelta di orologi per soddisfare le esigenze di ogni appassionato di orologeria, mentre le edizioni speciali ispirate al mondo delle corse automobilistiche sono molto apprezzate dai collezionisti. Grazie a tutti.